Trasferta sulla pista del Sarzana per il Cdc Viareggio che ha esordito perdendo in casa la scorsa settimana 4-0 con il Lodi. A proposito, i Lombardi sono stati multati di 200 euro in quanto i tifosi ospiti hanno lanciato acqua in pista, costringendo gli arbitri a fermare la gara per asciugarla. Per la partita contro la squadra guidata dall'ex di turno Sergio Festa, mister Cupisti sabato se la recupera lo squalificato Samuele Muglia. I Liguri hanno sfiorato sabato scorso il colpaccio a Monza dove hanno pareggiato 3-3 con Domenico Illuzzi, autore di una tripletta, a dimostrazione che è un elemento sempre in grado di fare la differenza. Inutile dire che per i bianconeri si tratta di una partita difficile per le solite problematiche della pista, anche se ormai i giocatori ci sono abituati, ma è pur sempre insidiosa. Per la Serie A2 relative alla Coppa Italia, le gare in programma sono quelle tra il Prato ed il Sarzana e la rotellistica Camaiore che ospita l'SPV Viareggi in un derby davvero tutto da vedere.